Da qualche giorno il servizio del 118 è stato temporaneamente sospeso dopo la diffusione del covid tra gli operatori. Una situazione denunciata anche dall'ex consigliere regionale Domenico Damascelli. Il 118 non può mai essere sospeso perché un servizio sanitario che serve per salvare le vite umane e deve poter operare H24 in qualunque momento per un arresto cardiaco, un incidente stradale, un aneurisma, subito deve poter intervenire per salvare la vita dei cittadini. È impensabile che non si definisca una data per la sua riattivazione. Qui c'è un'ambulanza che è ferma perché gli operatori purtroppo sono stati colpiti dal coronavirus ed è giusto che abbiano cura, assistenza e che siano in quarantena. Ma non si può dire che ci sono ambulanze di territori limitrofi perché già in passato, nonostante il 118 in questa città non si è potuto intervenire tempestivamente. Figuriamoci se invece devono venire da altri territori e da altri comuni. Non basta per il politico di Forza Italia la sua apertura del punto di primo intervento che svolge funzioni totalmente diverse. Il punto di primo intervento gestisce i codici bianchi e i codici verdi e serve a decongestionare i pronto soccorso. Il servizio del 118 invece gestisce i codici gialli e i codici rossi per salvare le vite umane. Ecco perché sono due cose diverse. Damascelli è intervenuto anche sull'assenza a Bitonto di drive-thru, postazioni per effettuare i tamponi anti-covid a bordo degli automobili. La presenza di altre postazioni in una città grande come Bitonto potrebbe servire a decongestionare i drive-thru già presenti. È l'unica città della provincia di Bari, tra le prime città delle province di Bari le più popolose, che ancora non ha un drive-thru. Per questo ho scritto una lettera al direttore dell'ASL Bari e al direttore del Departamento Salute della Regione Puglia Vito Montanaro che mi ha risposto, mi ha detto di aver girato la mia proposta alla protezione civile e proprio questa mattina mi ha detto che ha sollecitato il direttore dell'ASL Bari Antonio Sanguedolce. Allora chiedo che anche questo servizio si attivi immediatamente.